Il ventaglino Il giardinetto pubblico, meschino e polveroso, in quel torrido pomeriggio ad agosto, era quasi deserto, in mezzo alla vasta piazza, cinta tutt'intorno ad alte case giallicce, assopite nell'afa. Tutta vi entrò, col bambino in braccio. Su un sedile in ombra, un vecchietto magro perduto in un abito griso dal pagà, teneva in capo un fazzoletto. Sul fazzoletto il cappelluccio di paglia ingiallito. Aveva rimboccato diligentemente le maniche sui polsi e leggeva un giornale. Accanto allo stesso sedile, un operaio disoccupato dormiva, con la testa tra le braccia, appoggiato di traverso. Di tanto in tanto, il vecchietto interrompeva la lettura e si voltava, ad osservare con una certa ambascia il suo vicino, a cui stava per cadere dal capo il cappellaccio unto, incessato. Evidentemente quel cappellaccio, chissà da quanto tempo così in bilico, cado, non cado, cominciava ad esasperarlo. Avrebbe voluto rassettarglielo sul capo o buttarglielo giù con una ditata. Sbuffava. Poi volgeva un'occhiata ai sedili intorno, chissà se gli avvenisse di scoprirne qualche altro in ombra. Ce n'era uno solo, poco discosto, ma vi stava seduta una vecchia grassa, cenciosa, la quale ogni volta che lui si voltava a guardare spalancava la bocca sdentata a un formidabile sbadiglio. Tutas appressò sorridente pian pianino in punta di piedi. Si pose un dito sulle labbra per segno di far silenzio. Poi ad agio ad agio prese con due dita il cappellaccio al dormente e glielo rimise a posto sul capo. Il vecchio stette a seguire con gli occhi tutti quei movimenti, prima sorpreso, poi aggrondato. Con buona grazia, signò, gli disse tuta, ancora sorridente e inchinandosi, come se il servizio lo avesse reso a lui e non all'operaio che dormiva. Da un sordo a sta pora creatura. No, rimbeccò subito il vecchietto con stizza, chissà perché, e abbassò gli occhi sul giornale. Tiramo a campà, sospirò tuta. Dio provvede, e andò a sedere di là, su un altro sedile, accanto alla vecchia cenciosa con la quale attaccò subito discorso. Aveva appena vent'anni, bassotta, formosa, bianchissima di carnagione, coi capelli lucidi, neri, spartiti sul capo, stirati sulla fronte e annodati in fitte treccioline dietro la nuca. Gli occhi furbi le brillavano, quasi aggressivi. Si mordeva di tanto in tanto le labbra e il nasino all'insù, un po' storto, le fremeva. Raccontava alla vecchia la sua sventura, il marito. Fin da principio, la vecchia le rivolse un'occhiata che poneva ai patti della conversazione, cioè uno sfogo, sì, era disposta ad offrirglielo. Ma ingannata no, non voleva essere, ecco. Marito, vero? Siamo sposati con la chiesa. Ah beh, con la chiesa. E che dè? Non è marito? No, figlia, non serve. Come non serve? Lo sai, non serve. Eh sì, di fatti la vecchia aveva ragione, non serviva. Da un pezzo di fatti quell'uomo voleva liberarsi di lei e per forza l'aveva mandata a Roma perché cercasse di alloggiarsi per Balia. Ella non voleva venire, capiva che era troppo tardi perché il bambino aveva già circa sette mesi. Era stata quindici giorni in casa d'un sensale, la cui moglie, per rifarsi delle spese, per aver pagato l'alloggio, aveva usato alla fine di proporle. Capischi? A me! Dalla collera le era andato addietro il latte e ora non ne aveva più, neanche per la sua creatura. La moglie del sensale le aveva preso gli orecchini e sarà tenuta anche il fagottello con cui era venuta dal paese. Da quella mattina era in mezzo alla strada. Per davvero, sa. Tornare al paese non poteva e non voleva, il marito non se la sarebbe ripresa. Che fare intanto con quel bambino che le legava le braccia? Certo non avrebbe trovato neppure da mettersi per serva. La vecchia l'ascoltava con diffidenza perché ella diceva quelle cose come se non ne fosse affatto disperata, anzi ripetendo spesso quel suo, per davvero sa, sorrideva. Di dove sei? Le domandò la vecchia. Decore! E restò un pezzo come se rivedesse col pensiero il paesello lontano. Poi si scosse e guardò il piccino e disse. A dove lo lascio? Qua per terra? Poro cocco mio saporito. Lo sollevò sulle braccia e lo baciò forte forte, più volte. La vecchia disse. L'hai fatto? Te lo piagni. Io l'ho fatto? si rivoltò la giovane. Beh, l'ho fatto e Dio m'ha castigato. Ma patisce pure lui, poro innocente. E che ha fatto lui? Va, Dio non fa le cose giuste. E se non le fa lui? Figurate noi. Tiramo a campà. Mondo, mondo! Sospirò la vecchia levandosi in piedi a stento. E' una gran pena, aggiunse scrollando il capo un'altra vecchia asmatica corculenta che passava di lì appoggiandosi a un bastoncino. L'altra cavò fuori tra i censi. Un sacchetto sudicio che le pendeva dalla cintola, nascosto sotto la veste, e ne trasse un pozzo di pane. Tiè, lo vuoi? Sì, Dio te lo paghi. S'affreddò a rispondere tuta. Me lo magno. C'è credi che so digiuna da stamattina? Ne fece due pezzi. Uno più grosso per sé. Cacciò l'altro fra gli esili dettini rosei del bimbo che non si volevano aprire. Pappanino! Bono, sa! Una sciccheria! Pappa! Pappa! La vecchia se ne andò, strascicando i piedi insieme con l'altra dal bastoncino. Il giardinetto s'era già un po' animato. Il custode annaffiava le piante, ma neppure alle trombate d'acqua si volevano destare dal sogno in cui parevano assorti. Sogno di una tristezza infinita, coi poveri alberi sorgenti dalle aiuole rade, fiorite di bucce, di gusci d'uovo, di pezzetti di carta e riparate da stecchi e spuntoni qua e la sconnessi, o da un giro di roccia artificiale, in cui si incavavano i sedili. Tutta si mise a guardare la vasca bassa, rotonda e sorgeva in mezzo, la cui acqua verdastra stagnava sotto un velo di polvere, che si rompeva quando a quando al tonfo di qualche buccia lanciata dalla gente che sedeva attorno. Già il sole stava per tramontare e quasi tutti i sedili erano ormai in ombra. In uno lì accanto venne a sedere una signora sui trent'anni, vestita di bianco. Aveva i capelli rossi come di rame, arruffati, e il viso lentigginoso, come se non ne potesse più dal caldo. Cercava di scostarsi dalle gambe un ragazzo scontroso, giallo come la cera, vestito alla marinara. Intanto guardava di qua e di là, impaziente, strizzando gli occhi miopi come se aspettasse qualcuno. E tornava di tratto in tratto a spingere il ragazzo, perché si trovasse più là qualche compagno di gioco. Ma il ragazzo non si muoveva, teneva gli occhi fissi su tuta che mangiava il pane. Anche tuta guardava e osservava intenta la signora e quel ragazzo. A un tratto disse, lei segnò con la buona grazia. Sì, tante volte gli servisse una donna per far bucato o a mezzo servizio. No, e beh. Poi, vedendo che il ragazzo malaticcio non staccava gli occhi da lei e non voleva accedere ai ripetuti inviti della madre, lo chiamò a sé. Vuoi vedere il pupetto? Viello a vedere, carino, viè. Il ragazzo, spinto violentemente dalla madre, s'accostò. Guardò un pezzo il bambino con gli occhi invetrati, come quelli di un gatto fustigato. Poi gli strappò dalla manina il tozzo di pane. Il bambino si mise a strillare. No, poro pupo, esclamò tuta. Gli hai levato il pane? Pianemo, vedi? Ha fame? Dagliene almeno un pezzetto. Alzò gli occhi per chiamare la madre del ragazzo, ma non la vide più sul sedile. Parlava là in fondo, concitatamente, con uno maccione barbuto che l'ascoltava disattento, con un curioso sorriso sulle labbra, le mani dietro la schiena e il cappellaccio bianco buttato sulla nuca. Il bambino intanto seguitava a strillare. Beh, fece tuta, te lo levo io un pezzetto. Allora anche il ragazzo si mise a strillare. Accorse la madre a cui tuta, con la buona grazia, spiegò ciò che era accaduto. Il ragazzo stringeva con le mani al petto il tozzo di pane, senza volerlo cedere neppure alle esortazioni della madre. Lo vuoi davvero? E te lo magni, ninni? disse la signora rossa. Non mangia niente, sapete? Niente, sono disperata. Magari lo volesse, davvero? Sarà un capriccio. Lasciateglielo, per piacere. Beh, sì, volentieri, fece tuta. Tiello, cocco, magnalo tu. Ma il ragazzo corse alla vasca e vi buttò il tozzo di pane. Hai pesci, eh, ninni? esclamò allora tuta, ridendo. E sta pora creaturina mia che è digiuna. Non c'ho latte, non c'ho casa, non c'ho niente. Per davvero, sapete? Signò, niente. La signora aveva fretta di ritornare a quell'uomo che l'aspettava di là. Trasse dalla borsetta due soldi e li diede a tuta. Dio te lo paghi, le disse dietro questa. Su, su, sta bono, cocco mio. Te ce compro la bobbona, sa? Ci avemo fatto dubaiocchi, corpane della vecchia. Zitto, ninno mio, mossemo ricchi. Il bambino si quietò e lo rimase, coi due soldi stretti in mano, a guardare la gente che già popolava il giardinetto. Ragazzi, balie, bambinaie, soldati. Era un gridio continuo. Tra le ragazze che saltavano la corda e i ragazzi che si rincorrevano e i bambini strillanti in braccio alle balie che chiacchieravano placidamente tra loro e le bambinaie che facevano all'amore coi soldati, si aggiravano i venditori di lupini, di ciambelle o d'altre golerie. Gli occhi di tuta s'accendevano talvolta e le labbra le saprivano a uno strano sorriso. Proprio nessuno voleva credere ed ella non sapeva più come fare, dove andare. Stentava a crederlo lei stessa, ma era proprio così. Era entrata là, in quel giardinetto, per cercarvi un po' d'ombra. Vi si tratteneva da circa un'ora. Poteva rimanervi fino a sera e poi dove passar la notte con quella creatura in braccio. E il giorno dopo, e l'altro appresso? Non aveva nessuno, nemmeno là al paese, tranne quell'uomo che non voleva più saperne di lei e del resto. Come tornarci? Ma allora nessuna via di scampo? Pensò a quella vecchia strega che le aveva tolto gli orettini e il fagotto. Tornare da lei? Il sangue le montò alla testa, guardò il suo piccino e si era addormentato. E Nino, al fiume tutte e due. Così. Sollevò le braccia come per buttarlo. E lei appresso. Ma che? No. Rialzò il capo e sorrise, guardando la gente che le passava davanti. Il sole era tramontato, ma il caldo persisteva, soffocante. Tuta si sbottonò il busto alla gola, rimboccò indentro le punte, scoprendo un po' del petto bianchissimo. Caldo? Se more. Le stava davanti un vecchietto, con due ventagli di carta infissi nel cappello, altri due in mano, aperti, sgargianti, e una cesta, al braccio, piena di tant'altri ventaglini alla rinfusa, rossi, celesti, gialli. Dubaiocchi. Vattene, disse Tuta, dando una sballata. De che so? De carta? E de che lo vuoi? De seta? Beh, perché no? Fece Tuta, guardandolo con un sorriso di sfida. Poi schiusa la mano in cui teneva i due soldi e aggiunse. C'ho questi dubaiocchi soli. Pen sordo, me lo dai? Il vecchio scosse il capo dignitosamente. Dubaiocchi. Manco pe fallo. Beh, mannaggia. Atene. Dammelo. Moro de callo. Er pupo dorme. Tiramma campà. Dio provede. Gli diede due soldi. Prese il ventaglino e, tirandoci giù la rimboccatura sul petto, cominciò a farsi vento, 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 lì sul seno, quasi scoperto, e a ridere e a guardare spavalda con gli occhi lucenti, invitanti, aizzandosi. I soldati che passavano.